Dal 2013 avevano deciso di oscurare completamente all'erario un immobile in un'area commerciale di pregio a Vigevano, che avevano prima affittato e poi venduto, accumulando guadagni per 1.800.000 euro. Marito e moglie, titolari di una società immobiliare, sono finiti sotto indagine dalla Guardia di Finanza, che ha posto sotto sequestro un altro bene di proprietà dei due, una cascina di pregio, nelle campagne di Vigevano dal valore di 1.500.000 euro. I militari della compagnia guidata dal capitano Federico Lamanna hanno ricostruito gli affari della coppia, proprietari di diversi altri immobili e terreni nella zona, tutti regolarmente denunciati. Quell'immobile commerciale, intestato da una società, però a un certo punto, per la precisione dal 2013, è scomparso dalle denunce dei redditi. Fino a 2018 è stato affittato per un incasso complessivo di 800.000 euro e poi è stato venduto per un milione. Guadagni che non sono mai stati dichiarati, tanto che al termine delle indagini dirette dalla dottoressa Camilla Repetto e coordinate dal procuratore aggiunto, dottor Mario Venditti, è scattato il sequestro per equivalente della cascina. La coppia, nel periodo in cui non ha fatto la denuncia dei redditi, ha svuotato i conti della società. Il denaro era stato in parte girato sui loro conti personali e in parte utilizzato per pagare fornitori in nero. Operazioni ora ricostruite dalla Guardia di Finanza, che ha deciso di nominare l'operazione, visto lo sviluppo dei fatti, con l'espressione fieno in cascina.